La casa nella capitale all'età di 89 anni non poteva che essere alla casa del cinema a Roma, nella sua Roma. La camera ardente allestita per il regista cinematografico, televisivo e teatrale hanno fatto visita questa mattina colleghi, amici e anche tanta gente comune che ha imparato a conoscerlo tramite il piccolo schermo tanti anni fa. I funerali saranno celebrati alle 18 nella chiesa degli artisti in piazza del popolo.